Chi ha visto questo video lo sa, da luglio 2023 mi sono trasferito da Torino a Tricase, in Salento, nella mia città natale. Un po' come un salmone controcorrente, tutti vanno al nord e io invece torno al sud. Ecco, in quel video spiegavo un po' le mie emozioni e anche le motivazioni di questa scelta, che sono state diverse e sfaccettate. Una scelta tra l'altro non facile da prendere. Ecco, una di queste motivazioni che mi ha portato a stare qui è che vorrei studiare più da vicino le discrepanze economiche tra periferia e centro, e un po' tutto il tema dell'innovazione e dello sviluppo territoriale. Di questi temi ne ha parlato anche Enrico Moretti, un economista, che è stato per me illuminante quando qualche anno fa ho letto il suo libro La nuova geografia del lavoro. Ecco, qui dentro spiega che c'è un grande paradosso nel sistema economico odierno e nel suo sviluppo. E cioè che, nonostante l'invenzione e la creazione di queste tecnologie di comunicazione a distanza, che ci permettono di comunicare da una parte all'altra del mondo, in realtà i centri tecnologici e culturali e di sviluppo economico più importanti del mondo, si concentrano solo in poche città, dette anche città alfa. Questo è un fenomeno definito anche winner's take all, e cioè che i vincitori fondamentalmente prendono tutto e lasciano tutti gli altri indietro. E questo fenomeno in realtà crea un sacco di problemi da un punto di vista economico, ma non solo, anche sociale e politico. Questa frattura, sempre più evidente tra città alfa e periferie, non interessa solo me che sono sceso qui a Tricase, ma interessa anche voi. Infatti, di questo fenomeno non si sta parlando solo di questione meridionale, di nord contro sud, ma anche ad esempio di Milano contro Torino, e ci potrebbero essere tanti altri esempi territoriali di questo tipo. Inoltre, queste disuguaglianze hanno enormi impatti su molteplici aspetti, come ad esempio la coesione sociale della popolazione. Sono sotto gli occhi di tutti, ad esempio, i risultati elettorali, dove i centri votano in una maniera di solito progressista, mentre le periferie spesso votano in un'altra maniera opposta rispetto al centro, e cioè generalmente conservatrice. Ecco, spinto da queste tematiche, che secondo me sono attualissime, sono sceso qui a Tricase per studiare meglio il fenomeno e cercare di dare un contributo a tutta questa situazione. Sia chiaro, l'obiettivo non è quello di realizzare una Silicon Valley leccese, casistica quasi impossibile da replicare. Quello che si potrebbe fare, invece, è cercare di creare uno sviluppo territoriale equilibrato, inclusivo e sostenibile, con un obiettivo al centro, semplice ma complicato allo stesso tempo, e cioè dare uno scopo ai cittadini delle periferie. Quello che si nota, infatti, in questo fenomeno, è che non è solo una questione di PIL, per cui le periferie crescono meno rispetto alle città alfa. In realtà, le periferie, in questo grande sviluppo tecnologico, spesso, troppo spesso, si sentono fuori dai giochi. Percepiscono di vivere in luoghi che non contano nulla, e per questo è anche una delle motivazioni per cui votano in maniera conservatrice, per cercare di difendere il più possibile il mondo in cui stavano bene una volta. È una semplice risposta ad un mondo che progredisce e che esclude grandi fette di popolazione. Invece, una cosa che bisognerebbe fare, e la politica dovrebbe mettere molta attenzione, è dare una nuova dignità alle periferie. È ormai da qualche mese che sono qui, e ecco un po' il mio piano iniziale che ho un po' pensato. Invitiamo della gente che ha qualcosa da dire, qui, a tre case. Influencer, persone interessanti, imprenditori, pubblica amministrazione, economisti, non per forza in quest'ordine, infatti ho già in programma qualche chicca. Insomma, l'idea è che attraverso eventi, festival e iniziative potrei riuscire a dirottare conoscenze e competenze qui al sud, proprio un luogo dove spesso mancano queste tipo di caratteristiche. Iniezioni di capitale umano, fondamentalmente, che potrebbero dare quello scatto in più, quella riflessione, soprattutto alle nuove generazioni, per cercare di creare qualcosa di nuovo. L'obiettivo è innanzitutto cercare di svecchiare il panorama culturale del territorio. Iniziamo a parlare di cose nuove, che magari non si sono mai sentite, o magari solo di sfuggita, o anche fatte male alla Carlona. Iniziamo a parlare di tecnologia, di cultura, di società, fatto bene, in maniera concreta. Cerchiamo di dare uno scopo a questo territorio, in modo che possa sentirsi nuovamente all'interno di un qualcosa che sta finalmente progredendo. Ecco, sarebbe troppo facile fare tutto ciò a Milano. Provate a farlo qui, a Tricase. Ecco, in realtà, un primo tentativo l'ho già fatto. Infatti ho organizzato un evento durante le feste natalissie qui a Tricase che si chiamava Quale Futuro? Era una sorta di laboratorio sociale, che secondo me è stato abbastanza riuscito per essere la prima volta. Durante l'evento si è fatto del brainstorming, insieme a partecipanti, e un po' anche di attività di divulgazione per capire effettivamente che cosa significa sviluppo territoriale. Ecco, durante l'evento appunto si sono raccolte quindi delle idee sullo stato attuale del territorio e cercare di dare una proposta di sviluppo territoriale. Ad esempio, una delle cose che personalmente ho trovato molto interessanti durante l'evento è stata una riflessione sulla mancanza del territorio salentino di un punto in comune tra pubblico, che è spesso inefficiente, lo sappiamo bene, e a volte anche inconcludente, e dall'altra parte il privato, un'entità questa variegata, con interessi molto differenti e anch'essa con dei problemi abbastanza evidenti nello sviluppo territoriale del Salento. Ecco, un soggetto intermedio che possa mettere efficacemente in contatto le azioni pubbliche con quelle private potrebbe essere molto utile, almeno secondo quanto è emerso durante l'evento. Si potrebbero creare delle politiche economiche molto più efficaci e concrete rispetto a quelle che sono state fatte fino ad adesso. Questo ovviamente è solo un primo esempio. In realtà, aumentando la riflessione e gli attori in campo, e coinvolgendo ovviamente gli attori in campo in queste riflessioni, in questi eventi, si potrebbero creare ulteriori idee, approfondimenti e pensieri su questi aspetti dello sviluppo territoriale. Tutto molto bello? C'è solo un problema, e cioè che ci vuole tempo. So benissimo che non sarà solo grazie a me che si sistemeranno le cose. Sono problemi importanti, strutturali, per i quali ci vuole tranquillamente anche solo un decennio, solo per avere l'inizio di un'inversione di marcia rispetto a quello che si è fatto fino ad adesso. È fondamentalmente una maratona. Una maratona nel quale io cercherò di dare il mio contributo, quello che posso, nel mio piccolo, nella mia attività di divulgazione economica, nelle mie competenze economiche e finanziarie. Che sicuramente non bastano. Però diciamo che l'obiettivo iniziale è quello di creare un humus, un ambiente di base fertile, dove poi può nascere qualcos'altro che può andare anche oltre di me, magari essere anche molto più bravo. Un ambiente dove si può iniziare a strutturare qualcosa, delle competenze specializzate e condivise, dove l'attività pubblica e privata possano finalmente collaborare in maniera proattiva e cercare di creare qualcosa di interessante e concreto. Di nuovo, l'obiettivo non è quello di creare una Silicon Valley leccese. Ci sono, nella letteratura, approcci alternativi per questo sviluppo territoriale periferico, di cui, tra l'altro, alcuni ne ho letti in uno dei miei ultimi libri che ho letto, che si chiama Periferie Competitive, dove gli autori danno diversi spunti molto interessanti su uno sviluppo territoriale alternativo che non sia necessariamente la Silicon Valley e creare la nuova Apple o Facebook. Quindi, sostanzialmente, il compito è quello di scoprire la ricetta vincente per il territorio salentino. Man mano, nel frattempo, si fanno vari esperimenti e vari tentativi e riflessioni e coinvolgere gli attori in campo. Ogni territorio è ovviamente diverso dall'altro, per cui non c'è una ricetta assoluta e predefinita che funziona per tutti. Quindi, è un po' un approccio, come dire, learning by doing, cioè di imparare pian piano, in base a quello che si fa, appunto, come dicevo prima, le cose che funzionano e le cose che magari funzionano di meno. E, attraverso questo processo, cercare di costruire qualcosa di buono. Questi temi che riguardano lo sviluppo territoriale sono una delle cose che ultimamente in economia mi stanno interessando di più, perché hanno radici lontane, come ad esempio la questione meridionale nel caso salentino, ma guardano anche al futuro, e cioè a che cosa sarà di un territorio, quali sono i driver di un progresso economico sostenibile, tutti aspetti estremamente, secondo me, interessanti. Ecco, nel mio progetto e nel mio lavoro che vi sto raccontando, ovviamente ci sarebbero delle difficoltà e ci saranno sicuramente e sappiamo anche che non tutte le ciambelle escono con il buco. Gli esperimenti come questo, lo sappiamo, possono fallire molto facilmente, però io personalmente la sto prendendo un po' con filosofia e anche se dovrà andare tutto male, avrei imparato qualcosa di nuovo e mi sarò tolto questa soddisfazione di averci provato, di aver dato un piccolo contributo per il mio territorio che mi ha cresciuto ma mi ha anche cacciato dalla sua terra. Di nuovo, magari incontrerò un sacco di resistenze oppure semplicemente non sarò in grado di realizzare quello che mi ero prefissato, però almeno voglio provarci e vedere di dare appunto qualcosa indietro. Spero che mi accompagnerete in questo viaggio e magari potreste anche aiutarmi in qualche modo, chi lo sa, in maniera diretta o indiretta, magari potrebbe nascere un'associazione o un'entità appunto come quella intermedia di cui vi raccontavo prima, magari semplicemente venendo qui in Salento a partecipare a questi eventi e dare un piccolo supporto a tutto il progetto e magari a partecipare, a dare una vostra idea o una vostra opinione cercando pian piano di strutturare e portare avanti questo progetto molto ambizioso nel frattempo porta avanti anche uno studio di wealth management. Link in descrizione. Niente, vi ho raccontato un po' la mia idea un po' dei passi successivi che farà il canale col suo progetto di divulgazione ovviamente vi terrò aggiornati ogni volta ci sarà qualche tipo di evento e spero vi piaccia e che proseguirete insieme a me questo cammino arduo e difficoltoso ma non privo di opportunità di interesse di sfide che sono una cosa bella da avere nella vita. Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima!